Senza di te, non c'è nulla di cosa strana in quello che stiamo facendo. Oh, difesa Marinatti, un'altra cosa! Abbiamo venuto a tutti! È tutto ok? Giovanotti, giovanotti, bambate! Chi? Sì, ma che bella sorpresa! Io a Nester Rostro ci stavamo allenando quando mi chiamavamo giocco di dinastica! Io ho risposto certo, sì, di polpettina, ma non quella che stiamo facendo in questo momento! Si salvi di forno, mi vado di sottile! Chi? 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 No, no, no! No, no, no! No, no, no! No, no, no! Pippo! No, no! 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 No, no!